E' venerdì 25 luglio, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. La protezione civile del Molise è sempre più nel caos. Il consigliere delegato Salvatore Ciocca si difende dalle accuse contrattaccando e chiama in causa del presidente Paolo Frattura. Ho rispettato sempre la legalità e non mi dimetto, ha dichiarato Ciocca, ma il suo operato è finito sotto accusa. Ci dice tutto Giovanni Minicozzi. Il comunista sui generis che vive nel lusso, Salvatore Ciocca, cerca in tutti i modi di difendere la sua poltroncina di consigliere delegato alla protezione civile e alla ricostruzione post terremoto dagli attacchi che gli sono stati sferrati da più parti e lo fa nel peggiore dei modi possibile utilizzando un vecchio adagio che recita la miglior difesa e l'attacco. Infatti Ciocca reagisce mettendo sotto tiro tutti coloro, e sono tanti, che hanno avuto l'ardire di chiedere le sue dimissioni. Dunque i vertici dell'Acem, i precari della protezione civile, i sindaci del cratere e perfino i disgraziati terremotati che da oltre 12 anni vivono nelle casette di legno e non sanno ancora quanto tempo dovrà passare prima di poter riavere la propria casa. Il consigliere delegato va oltre e chiede al presidente Frattura se anche lui fa parte del complotto considerato che alcuni suoi detrattori appartengono al PD, ovvero allo stesso partito del presidente. La risposta del governatore al momento non si conosce, ma sarebbe interessante capire la sua posizione. Il comunista Ciocca dunque mena botte da orbi a tutti, ma non risponde alle accuse, anzi ribadisce che a dimettersi non ci pensa proprio. D'altra parte, avendo dichiarato al fisco poco più di 7.000 euro per l'anno 2012, non può permettersi il lusso di dimettersi. Questo è comprensibile, ma Ciocca però dovrebbe almeno spiegare alcune cose che ci permettiamo di ricordargli nel seguente ordine. Uno, perché la protezione civile è stata smantellata? Due, perché ha mandato a casa 100 professionisti vincitori di concorso tra i quali 15 invalidi appartenenti alla cosiddetta categoria protetta? Tre, perché ha assunto senza alcuna selezione pubblica persone nuove e forse senza titoli per operare in un settore strategico come è quello della protezione civile? Quattro, perché ai suoi proclami non seguono mai i fatti concreti? Cinque, perché la ricostruzione è bloccata da circa un anno e mezzo? Sei, perché si appropria del lavoro fatto dalla passata gestione proprio sulla ricostruzione? E per concludere, anziché ergersi a paladino della legalità, Ciocca spieghi ai molisani come fa a vivere nel lusso e nei bot con 7.000 euro all'anno dichiarati al fisco e quanti soldi ha incassato negli anni passati e come dall'assessorato all'agricoltura e da Molise Acque. L'associazione antimafia Caponnetto, da sempre attenta all'ambiente e contraria all'installazione di nuove pale eoliche anche in Molise, ha comunicato per questa mattina la presentazione di un esposto all'autorità giudiziaria di Larino. La denuncia riguarda lo scempio del territorio che si sta consumando, specialmente in Basso Molise, a causa dell'eolico selvaggio. L'esposto riguarda le convenzioni illecite, secondo l'associazione, stipulate tra comuni e società eoliche. Convenzioni e la denuncia dell'associazione Caponnetto che impegnerebbero i comuni a non ostacolare la creazione di parchi eolici dietro compensi economici. Inoltre, è la richiesta dell'associazione, vogliamo capire se realmente esiste un traffico di pale eoliche tra Sicilia, Molise e Puglia, così come ipotizzato negli ultimi giorni. Spostiamoci adesso a Riccia per la presentazione della decima edizione del Folk Festival, la rassegna di musiche e danze popolari organizzata dall'associazione culturale Giuseppe Moffa, appuntamento dal 7 al 10 agosto. Marcella Tamburello. Riccia nel mondo è il mondo a Riccia, un festival internazionale di musica folk ma non solo. È un po' questo il senso del Riccia Folk Festival, aggiunto la decima edizione ed organizzato, come sempre, dall'associazione culturale Giuseppe Moffa. Una vera e propria rassegna internazionale di musiche e danze etnico-popolari, in un viaggio tra culture e tradizioni diverse, che a Riccia si incontrano e si confrontano. Dal 7 al 10 agosto il paese del fortore si animerà con diversi colori, attraverso la presenza di gruppi provenienti da tutto il mondo. Tutto questo è possibile anche perché c'è una squadra che lavora dietro a questo, un grosso lavoro fatto di tanti giovani. Una cosa mi sento dire, il gruppo folkloristico di Riccia, oltre a svolgere la sua attività culturale, di folklore, svolge una grossa attività sociale. Il gruppo è stato in tournée 8 giorni in Olanda, andrà in Sicilia a Ferragosto, ma attira tanti giovani. Il punto focale è quello che questi giovani sono una grossa risorsa per poter realizzare queste grandi ed importanti manifestazioni. Manifestazioni che sono un punto di riferimento per l'intero fortore e per tutto il Molise. Tant'è vero che nei colloqui che ho avuto per i contatti dei gruppi, nel circuito dei folk festival italiani, il Riccia Folk Festival è conosciuto da tutti. Non solo musiche e danze popolari, il Riccia Folk Festival è anche incontro di sapori con l'enogastronomia locale e di cultura con la proiezione di docufilm, e mostre pittoriche. L'obiettivo nostro è quello comunque, come ripeto da più anni, anche in queste occasioni, è quello di creare gli scambi culturali tra la nostra manifestazione e le analoghe manifestazioni che si tengono all'estero e che ci vedono protagonisti in un meccanismo di scambi culturali a livello internazionale che interessano tutto il mondo. Abbiamo visitato negli ultimi dieci anni quasi tutti i continenti. Ci manca l'America che abbiamo visitato prima di questa situazione, ma contiamo a breve, insomma, abbiamo dei contatti che penso che a breve ci porteranno anche a tornare in America come l'abbiamo fatto in passato. È tutto per la nostra informazione, adesso spazio alla rassegna stampa. Partiamo con il giornale del Molise.it. Protezione civile e guerra aperta tra Ciocca e il Presidente della Regione. Dimissioni per me o anche per Frattura, è il titolo dell'articolo a firma di Pasquale Di Bello. Le altre notizie. Tragedia nei campi di Agnone. Muore un agricoltore di 43 anni. Zuccherificio fumata bianca a Roma. La campagna può partire. Cambiano i vertici della questura di Isernia. Altro titolo, sempre da Isernia, pauroso incidente in pieno centro, settantenne in ospedale. Agricoltura approvati in commissione gli emendamenti elaborati dal senatore Ruta. E poi scuola incontro dei precari in prefettura di Menna pronto a convocare un tavolo istituzionale. Ci sono poi ancora le altre notizie, editoriali, idee e opinioni. Altre notizie dalla Regione, ma anche dall'Italia e dal mondo. Vediamo come titolo a primo piano. Molise è tragedia. Nei campi muore un 43enne. Adriano Orlando è stato risucchiato dalla rotopressa. Lo hanno trovato incastrato nel mezzo. Il dramma si è consumato in una contrada di Agnone, dove la vittima aveva un'azienda agricola. Vediamo gli altri titoli. Allo zuccherificio la campagna saccarifera entra nel vivo. Domani i primi 80 tir carichi di barbabietole. I coltivatori restano comunque guardinghi. 20 euro a tonnellate è un prezzo inaccettabile, ma per limitare i danni dicono sì con riserva. Le altre notizie ancora. Campobasso rapina alla BPPM. Inquirenti sulle tracce dei malviventi. Chiare le immagini delle telecamere. Isernia, intimidazione in caserma. Condannato un boss e la mamma a incastrare i due lecimici nella stanza. Sempre da Isernia, incidente in via Regno Ponzio. L'auto si impenna e poi si ribalta. Da Campobasso sciopero degli autisti della SEAC. Bus fermi dalle 8.30 alle 12.30. L'affondo del segretario della CGL, Lavoro del Fattore, dice non c'è volontà politica di imprimere la svolta. Fino ad oggi sono mancate risposte alle tante vertenze sul territorio. È il virgolettato, la dichiarazione di Sandro del Fattore. Dall'Abruzzo da Vasto, derubata in strada, anziana costretta pure a prelevare soldi in banca. Dietro minacce, l'87enne ha consegnato i risparmi. Le notizie di sport. Serie D, Lupi in prova Cabangu, Marchesano e Ursillo. Il Termoli si orienta su Cece, Tortora e Caruso. Eccellenza, Isernia torna di moda a Falzarano per il club. Potrebbe affiancare Ciampittiello. Da primo piano passiamo adesso a vedere il quotidiano del Molise. Anche qui c'è la cronaca, in evidenza. Agricoltore travolto da una rotopressa ad Agnone. Il 43enne è stato inghiottito dal mezzo mentre era lavoro nei campi. Di Adriano Orlando non si avevano più notizie da un giorno. Ieri la Mara scoperta in località Posticchia. Il governo, performance eccellenti. Questo l'altro titolo. Depurazione e tutela acqua. Il Molise fa scuola in Italia. Sabato la tavola rotonda Termoli Expo Frattura parte la cooperazione interregionale per il DL Competitività Agricoltura. Ruta soddisfatto ok ai miei emendamenti. Le altre notizie ancora. Campobasso trasporto pubblico locale oggi stop di quattro ore. Viabilità strade statali un bando da due milioni e mezzo. Isernia perde il controllo e si ribalta in corso risorgimento. Vediamo ancora le notizie di Sport Serie D. Primo colpo del Termoli. Il DS Agliano prende Ruggeri. Campobasso si aggregano gli under Cherubini e Sclafani. Eccellenza 5 club a rischio. Iscrizione Santeliana scatenata. Dal quotidiano passiamo adesso alla Gazzetta del Molise. Tutti contro l'inadeguato Petraroia. Questo è il titolo della Gazzetta. E poi l'Oscar del giorno a Renato Sparacino, il sindaco di Scapoli. Il tapiro del giorno a Riccardo Tamburro. Vediamo adesso i quotidiani nazionali. Partiamo con la Repubblica. Riforme e battaglia. Le opposizioni marciano sul colle. Sitin dopo la decisione di chiudere il voto entro l'8 agosto. Renzi non mollo, basta con i no. Grillo, democrazia uccisa. Addio ripresa per l'Italia. Il Fondo Monetario Internazionale dice solo 0,3% in più di PIL, di prodotto interno lordo. Gaza, bombe sulla scuola ONU, strage infinita di donne e bambini. Era il rifugio degli sfollati tra le vittime personale diplomatiche. Poi c'è questa drammatica foto. Dalla Repubblica passiamo adesso a vedere il Corriere della Sera. Tempi tagliati, opposizioni in rivolta, riforma del Senato. La maggioranza impone il voto entro l'8 agosto. Fronte contrario di Selle, Lega e 5 Stelle. Corteo di protesta al Quirinale. Renzi dice non mollo, basta con i no. Tra le macerie di Gaza a fuoco, morte, lacrime, colpita una scuola dell'ONU. Dopo la liberazione, Meriam dal Papa dice è finito un incubo. L'ultimo spettacolo, la chiusura dell'opera. Roma, troppi scioperi, teatro in liquidazione. Passiamo a vedere il tempo. Camera ardente per gli stipendi d'oro. Montecitorio l'ha svolta dopo l'inchiesta del tempo sulle buste paga dei dipendenti. Tetto massimo di 240 mila euro netti l'anno. Fuori dall'ufficio della Boldrini è rivolta. Dal tempo al giornale. Politici in piazza a casa mai è guerra a Renzi. Degenera la lite sulla riforma del Senato. Marcia delle opposizioni sul Quirinale. 500 milioni di euro per le imprese dirottate all'Europa. L'orrore integralista a crocifissioni. Nuova arma della Jihad. Lo Stato islamico proclamato in Iraq è sempre più forte. e l'Occidente ne ha paura. Vediamo adesso l'unità. Stretta sul Senato è caos. Dopo un'altra giornata di tensione. La maggioranza decide di contingentare i tempi. si vota l'8 agosto. Boschi, il referendum si farà. Grillini, Selle e Lega marciano per protesta sul Colle. Dall'unità a Libero. L'Italia è un campo profughi. Da Mare Nostrum a Casa Loro. In 80 mila già bivaccano nelle stazioni, nei giardini delle città. Scrive delle città. Scrive Libero. In agosto ne arriveranno altri 50 mila. L'emergenza diventerà dramma. Ma l'Europa se ne frega. E il governo non sa che pesci prendere. L'articolo a firma di Maurizio Belpietro. La stampa. Opposizioni. Protesta al Colle. Anche qui dunque questo titolo. Tagliola sulle riforme. Voto entro l'8 agosto. Renzi deciderà un referendum. Contro l'ostruzionismo. Contingentati gli interventi al Senato. E 50 parlamentari improvvisano un corteo al Quirinale. A Roma la donna che ha commosso il mondo. Liberata Meriam la sudanese cristiana. Condannata a morte dall'Islam. L'incontro con Papa Francesco. Vedete la foto. Passiamo a vedere il fatto quotidiano. La rivolta. Corteo al Quirinale contro la deriva autoritaria. Drammatica battaglia al Senato. Grasso cede al Re Giorgio e al PD e aziona la tagliola. Tempi contingentati e voto sulla riforma entro l'8 agosto. 5 Stelle, Selle, Lega e dissidenti di Forza Italia salgono al Colle. Napolitano non li riceve. C'è questa foto. Avvenire. Meriam adesso può vivere. L'arrivo in Italia, poi dal Papa, il grazie di Francesco per la testimonianza di fede. La madre sudanese è condannata a morte per apostasia e poi costretta a partorire in carcere finalmente libera. Ora si trasferirà in America il ruolo cruciale del governo Renzi. Da avvenire, passiamo a vedere il mattino di Napoli. Riforme, caos, assedio al Colle. E domani la visita arriva il Papa Caserta blindata. E poi c'è anche la notizia di sport. Nibali, il ragazzo del Sud Re del Tour de France. E il titolo su Nibali, c'è ovviamente sulla Gazzetta dello Sport, titolo principale. Squalo giallo. Il Tour italiano in classifica adesso a 7 minuti e 10 sul francese Pinot. Nibali da leggenda domina e vince anche l'ultima tappa sui Pirenei. Il trionfo di Parigi ormai è a un passo. Oltre ai premi avrà un milione di bonus dall'Astana. Non accostatemi ad Armstrong, dice Nibali. E poi elezioni FIGC. La A contavecchio sarà il presidente. No di Juve e Roma. Tutta la Lega, con l'eccezione delle due big. Ecco lui oggi presenterà il suo programma. Verrà candidato. Andrea Agnelli non andrà in Consiglio federale. Con la Gazzetta dello Sport termina la nostra rassegna stampa. Prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise. Come sempre alle 14 in diretta con il Tg. Grazie per averci seguito. Buona giornata. 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 Grazie a tutti.